La Chiesa è indistruttibile Il primo capitolo è Io amo la Chiesa Mi raccomando Poi la motivazione La Chiesa è nostra madre La amo perché è mia madre Adesso andiamo avanti Vediamo la seconda motivazione Per cui amo la Chiesa Perché la Chiesa è la nostra guida Come Gesù ha detto a Pietro Pasci le mie pecorelle Allora leggiamo Con qualche piccolo commento Ma soprattutto Cerchiamo Vi invito ad ascoltare a cuore aperto Perché siamo in tempi in cui La Chiesa ha bisogno Del nostro amore Ha bisogno del nostro aiuto Ha bisogno di essere vissuta In noi stessi prima di tutto Siamo a pagina 14 La Chiesa è la nostra guida La ventata di paganesimo Che si è abbattuta sui paesi Di antica cristianità Indebolendo ed emarginando la Chiesa Ha privato il mondo Ad una guida assolutamente necessaria Disposta da Dio Per navigare verso Un futuro di prosperità E di pace Ora l'umanità è come Come diceva Dante Una nave senza nocchiero In gran tempesta Che si scopre improvvisamente Incagliata Incapace di ripartire E darsi una direzione Prima della divina rivelazione Attraverso la quale Dio ha comunicato L'uomo i suoi progetti di salvezza L'umanità era avvolta Nelle tenebre dell'ignoranza Incapace di decifrare Il mistero dell'universo E della storia Perché anche di tutte le varie Culture di tutti i popoli Qualche frammento di verità Soprattutto molti Molti errori Nessuna delle religioni Apparse sulla faccia della terra È stata in grado Di rispondere Agli interrogativi Insopprimibili Che riguardano Il senso della vita Le nostre origini E il nostro destino Cioè La divina rivelazione La Bibbia È la risposta A Cristo È solo lui La risposta A tutti gli interrogativi Esistenziali Il cammino umano È proceduto In una selva oscura Nella quale La luce Fiocca dalla ragione Ha stento Ha assicurato La sopravvivenza Dell'uomo Da sempre L'uomo Si è posto Le domande fondamentali Come emerge Delle moltiplici Civiltà Sparse nel globo Ma mai È riuscito A darsi risposte Certe Ed esaurienti Quindi Per illuminare Il cammino Dio stesso È intervenuto Per mezzo Di uomini Da lui scelti Per comunicare La sua parola Di verità E aprire Le porte Al mistero Nascosto Cioè Tutti quei uomini Che poi hanno Le cui parole Hanno costituito La sacra scrittura La diversità Del cristianesimo Da tutte le altre Visioni del mondo E della vita Sta proprio In questo Punto focale Che separa L'uomo E il divino Ciò che gli uomini Riescono a comprendere Con la ragione È ciò che invece Ricevono dall'alto Come un dono Cioè Tutte le religioni Sono tentativi Dalla ragione umana La religione cattolica È un dono Che viene dall'alto Non vi è dubbio Che le religioni Le filosofie Le scienze Che hanno accompagnato L'uomo Nel suo pellegrinaggio Sono conquiste preziose Che dimostrano La superiorità Dell'uomo Su tutto ciò Che esiste Nel cosmo Ma alla fine I risultati Sono modesti Pensiamo per esempio Al verbo Al verbo Universale di oggi Che è l'evoluzionismo Cosa che Cosa ti dice Sulla vita Zero Prima dalla parola Priva dalla parola Di Dio Raccolta Nella sacra scrittura E affidata All'incenamento Della chiesa Prima Priva di questo Senza questo L'umanità si trova In un vicolo Oscuro Senza risposte Senza certezze Piena di angoscia E di paure Come in particolare Lo è oggi Dopo che si è Risvegliata Ed emancitata Come afferma Orgogliosamente Cioè La Madonna L'ha già giudicata Quest'umanità L'uomo moderno Vuole Dio E va verso la perdizione Cioè È senza risposte Sul senso della vita E su dove Andrà a finire la vita In realtà Dopo l'abbandono Della verità Rivelata Come ha detto La Madonna Avete rifiutato La fede e la croce Siamo entrati Nella bavere Delle lingue Nello scetticismo E nel nichilismo Universali Boh 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 Quello è il verbo D'oggi Boh Non Non si sa rispondere Più a niente L'abbandono Della verità Che viene solo da Dio E che si è fatta Carne di Gesù Cristo Sta creando nel mondo Una vera e propria Catastrofe Storica ed esistenziale Cioè Non vuole Dio Non vuole la verità E va verso la perdizione E infatti Stiamo Preparando Una catastrofe Storica ed esistenziale Storica che riguarda il mondo Esistenziale che riguarda Ognuno di noi Nessuno Sa più Nulla Di se stesso E del destino comune Boh Il vero e il falso Il bene e il male Hanno battuto i reciproci confini E si sono mescolati Perdendo la loro identità Alla fine Domina solo la forza Che si impone sovrana su tutto E che comporta la perdita Conseguente Della libertà E quello che hanno capito Molto bene Le autocrazie La Chiesa Ha guidato l'umanità Per due millenni Estendendosi in ogni parte Della terra E divenendo luce Delle genti Diversamente Dalle varie religioni La Chiesa Pur essendo fatta Da uomini È di origine Divina Modernisti Permettendo Questo la pone Come punto di riferimento Universale Voluto da Dio Perché il mondo Possa avere un futuro E perché gli uomini Si possono salvare Infatti La nascita Della Chiesa Coincide Con l'evento centrale Della storia umana Che è L'incarnazione Del verbo La verità Eternamente generata Dal padre Che si è fatta Uomo Nel grembo Dalla Vergine Maria Gesù Cristo Il figlio di Dio E di Maria È la luce Che illumina Il mistero Del mondo Ed è la sorgente Universale Di grazia E di salvezza È nella persona Nella vita E nelle parole Di Gesù Cristo Che tutto ciò Che esiste Ha la sua ragione D'essere E la sua consistenza In Lui La vita umana Scopre la sua grandezza La sua bellezza E il suo senso Cristo nella gloria È il re universale Nelle cui mani Sta ogni cosa Ogni vita Ogni tempo Nessuno potrebbe Abbattere la sua signoria Spegnere la sua luce Dissacrare E distruggere La sua opera Di redenzione Cristo Ieri Oggi Sempre Forever Cristo 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 Che già Nei suoi tre anni Di missione pubblica Sulla terra Ha fondato la Chiesa Affidandole tutti i suoi poteri Lui Lui in persona Lui in persona L'accompagna Nel corso della storia Ed è presente In essa Guidandola Vivificandola E santificandola Tanto da poter affermare Che senza di Lui La Chiesa sarebbe Un corpo morto Senza Cristo La Chiesa sarebbe Un cadavere Come tutte le realtà Di questo mondo Che passa Ritornando in cielo Dopo la sua gloriosa Resurrezione Cristo ha assicurato La sua presenza Nella Chiesa E attraverso di essa Rinnova l'umanità E la guida Fino al compimento Della storia Nessun'altra realtà Umana Può adempiere A questo compito Perché senza La luce E la grazia di Cristo Nel mondo Regnano le tenebre E la morte Perciò Se riduciamo La Chiesa A una onga A cosa serviamo Di cadaveri C'è già fin troppo No Cadaveri C'è Istituzione umane Che non stanno in piedi E si è pieno Il mondo Se la Chiesa Non avesse Cristo Farebbe la medesima fine Quindi Il mondo Ha bisogno Della Chiesa Di Gesù Cristo Risorto Un mio Signore Salvatore Di quello Il mondo Ha bisogno Predichiamolo Per favore Se solo guardiamo All'esito Della scristializzazione Che si è diffusa In tutto l'Occidente In questo ultimo secolo Ci rendiamo conto Quanto la potenza Del male Possa far deviare Gli uomini E i popoli Fino a condurli Sull'oro Dell'autodistruzione L'imperversare Delle ideologie Anticristiane Che hanno Diversato l'umanità Nel tempo Delle guerre mondiali Dimostra Che senza La Chiesa Si spegne Non solo La luce Della fede Ma anche Quella Dalla ragione Il tentativo Attuale Di costruire Un mondo Senza Dio Cercando Con ogni pressione Di mondanizzare La Chiesa O di Immarginare La parte Più fedele Combattiva Coincide Con una Cresce Dei valori Che sta portando Il mondo Alla rovina Cioè In poche parole L'indebolimento Della Chiesa Nella fede Rende Peggiore Il mondo Ovvio Perché se la luce Fioca Se la luce E' Fioca Se è Fioca La luce Di coloro Che devono essere La luce Del mondo E' chiaro Che gli altri Vanno a ferire In qualche fosso Possiamo afferrare Con certezza Che senza La Chiesa Il mondo Non ha futuro Perché? Perché Nella Chiesa C'è presente Cristo Il risorto La sua forza Cioè Quella Della Chiesa Non dipende Degli uomini Che ne fanno parte Ma dalla presenza Del risorto Che istruisce Con la sua parole Che santifica Con la sua grazia Non è affatto Un azzardo Sostenere Che senza La guida Della Chiesa L'umanità E' destinata A perire Perché Satana La svia E la mette Sulla sua via Che porta Alla rovina Certa Nel tempo E nell'eternità Quindi Senza Chiesa L'umanità E' perduta Serve a poco Solver l'obiezione Che anche la Chiesa Ha avuto E ha I suoi peccatori Traditori Anche fra i consacrati Scelti da Cristo Per questo compito Sublime Ma essi Non saranno mai In grado Di vanificare La presenza Di Cristo Come l'anima Ceccata Di Giuda E quella Tremura Degli Apostoli Non poterono Impedire Il compimento Della redenzione Infatti La Chiesa Nella Chiesa Opera Lo Spirito Santo Che suscita Incessantemente I virguti Di sapienza E di santità Che impediscono Al peccato E alla tenebra Di prevalere E la presenza Della Santissima Trinità Che rende La Chiesa Indistruttibile Oggi In particolare Nonostante Non pochi Siano presenti Nella Chiesa Come se fosse Una istituzione Umana L'annuncio Di Cristo È l'unica Via di salvezza Per il mondo Infatti Solo L'appello Alla conversione Al Dio Della pace E dell'amore Può salvarla Dalla catastrofe L'attuale generazione Che ha rinnegato La fede La croce E che si è messa Al posto di Dio Rifletti Caro amico Chi oggi Sarebbe in grado Di guidare il mondo Verso il futuro In questa situazione Globale Di confusione Dovuto Al cercamento Spirituale Senza precedenti Cioè Siamo del caos Siamo del caos Generalizzato Nel quale Solo la Chiesa Potrebbe Diventare Un ancora di salvezza Ma ha bisogno Dio Ha bisogno Una Chiesa Più coraggiosa E più luminosa Con forza Coraggio Il nuovo totalitarismo Come l'ha definito San Giovanni Palo II Ha ricettato La fede La visione cristiana Del mondo E della vita Sostituendole Con una scienza Pseudo scienza Atea E materialista Imposta Ovunque Come una nuova Religione Messianica La nuova era Illuminata Dell'umanità Passa attraverso La guerra Al dio Della rivelazione Per affermare La sovranità Dell'uomo La supremazia Del suo sapere E la capacità Dei suoi mezzi Per costruire La salvezza E per dare inizio A una nuova creazione Cioè Adesso Cioè Anche questa Intelligenza artificiale E proprio artificiale Scusate Cioè L'uomo Sta costruendo Come dire Si sta costruendo La sua cassa Mortuaria Ha messo Se stesso Al posto di Dio E quindi Questo Rifiuta Comporta Il rifiuto Del cristianesimo Comporta La negazione Della chiesa Come luce Delle genti E comporta Anche la negazione Del suo ruolo Di guida Nell'oceano agitato Dalla storia Cioè È chiaro Che il mondo Ad oggi Non vuole Dio Ma non vuole Neanche la chiesa Ma la chiesa Non deve far Sentimidire Che cosa Potrebbe fare La chiesa In questa situazione Nella quale La sua evrazione Globale Alle tenebre Ha offuscato Gli occhi Degli uomini Come avviene A quelli A quei volatili Che vivono In una caverna Bibistrelli L'unica Opzione Che ha davanti La chiesa La sola strada Che deve percorrere È quella Della testimonianza Intrepida Di colui Che la via La verità E la vita Perché questa È la ragione Del suo esistere E la garanzia Della sua vittoria Cioè Qui Non è che ci sia Chissà cosa Da fare La chiesa Deve essere La chiesa Di Gesù Cristo Dopodiché Se la chiesa Di Gesù Cristo Diventa la salvezza Del mondo Se no Se niente Da fare Come diceva Padre Deleubach La chiesa È il prolungamento Di Cristo Se noi siamo Il prolungamento Di Cristo Lo viviamo Noi siamo I sali Della terra La luce Del mondo È bastato Un virus invisibile Per mandare Il mondo In confusione Per far vaccinare Le sue certezze E per mostrare I limiti Della scienza Elevata A rango Di una nuova divinità Mai Come in questo passaggio storico Il mondo Ha avuto bisogno Di Cristo Unico Signore Salvatore Senza di Lui E la sua grazia Il mondo Non ha Né futuro Né salvezza Eterna Quante volte L'ha ripetuta La Madonna Quindi È compito Della chiesa Oggi Di proclamarlo Con coraggio Che cosa Che Gesù Cristo È l'unico Salvatore E Signore Del mondo E farlo Con convinzione Farlo Col cuore Farlo con l'intelligenza Farlo con coraggio Anche a sacrificio Della vita Quindi Questo dunque È l'omaggio Che abbiamo Tribuito oggi Al Signore E alla sua chiesa La chiesa di Cristo Che Lei La chiesa È più che mai L'unica guida Che può portare Alla salvezza All'umanità E questa Questa presenza Della chiesa L'abbiamo soprattutto Attraverso la Vergine Maria Che in questa fase Dedicata Dalla storia È qui presente Per portarci A quel tempo Di pace Che tutti Desideriamo Che il cuore umano Desidera Come ha detto La Madonna Il prossimo appuntamento Cari amici Sarà La chiesa È la nostra Difesa E poi L'altro Per completare Il quadro La chiesa Sarà la nostra Speranza Con questo cari amici Abbiamo terminato Dunque per chi vuole Il libro Potete usare Orsap E mandare Orsap Qui alla Domaria 031 610 610 Mettete il titolo Del libro La chiesa indistruttibile Nome e cognome Indirizzo Mettete Il vostro numero Di cellulare O di telefono Per il corriere E potete averlo Potete usare Anche l'indirizzo E-mail Info.it A chiocciola Randomaria.org Telefonare All'ufficio informazioni 031 610 600 Poi anche usare Il sito internet Randomaria.it Cliccando Catalogo Potete Trovare il libro Nelle librerie Specialmente Quelle cattoliche E poi Nell'istoro Ormai Che lo fanno avere In poco tempo Però Non con tutti questi Bei Braccialetti Che vi diamo noi Con i 10 Con i 10 Grandi Rosario E la Medaglietta Della Madonna Alla prossima volta Che Dio vi benedica Che Diovi